Ciao a tutti ragazzi, sono Andri dello staff di Let's Play FIFA, www.letspif.it, in pagina Facebook in descrizione e siamo qua oggi all'arrivo di cerchi Team of Dare, ah no, scusate, era Robin non c'è molta differenza, come dice il buon Pistocchi, però diciamo che uno ha 96 di overall in questa reazione Team of Dare e quell'altro ha 80. Comunque, 96 overall, 98 velocità, 98 di dribbling, 95 tiro, 90 passaggio l'ho comprato per solamente 6.920.000 ha fatto con il vecchio proprietario, praticamente il doppio, il rapporto gol partita è praticamente 2 90 di passaggio, 72 difesi, 40 di difesa andando a leggere un po' di statistics in game, notiamo alcune veramente devastanti 96 controllo palla, 99 dribbling, 94 finalizzazione, 99 in long shot, 95 potenza tiro, 95 tiri al volo 99 agilità, 98 accelerazione, 98 veloce da scatto, 98 posizionamento, 91 visione e anche 97 di equilibrio con 73 di forza fisica, net upgrade rispetto alla versione non in forma ricordiamo che ha avuto anche una versione IF e una versione SIF Comunque, comunque andiamo a parlare come sempre di top e di flop di questo giocatore il primo top è il tiro, il tiro come? Il tiro in tutti i modi perché 95 di tiro si sente veramente in game si sente perché fuori dall'area con quel 99 di long shot si fa delle traiettorie veramente importanti si sente perché il tiro a giro è ottimo, la finalizzazione non ne sbaglia quasi mai quindi il tiro in sé è tutto un pro quindi un pollicione in su per questo tiro e poi la parola Robin si associa praticamente sempre alla parola dribbling dribbling anche in velocità perché tu puoi sfruttare le 4 o 6 le skill ma puoi anche correre, tenere l'L2 nel controllo palla insomma hai tanti modi per dribblare con questo giocatore e a me, cioè io mi sono molto divertito ad usarla appunto o ricevi palla dribbling poi la passi oppure ricevi palla dribbling ma importa ma importa perché questo giocatore come state vedendo è veramente tanto facile segnare appunto per il tiro che ho citato prima nella vita reale adesso magari la passo un po' di più di prima ma prima diciamo che era abbastanza egoista comunque su FIFA visto che decidi tu se un giocatore egoista o no ha degli ottimi passaggi 90 di passaggio è veramente un'ottima caratteristica passaggi alti, buoni, passaggi bassi, ottimi insomma anche passaggi è una garanzia quindi voi direte il giocatore è perfetto? no, il giocatore è perfetto no perché diciamo che le due stelle vedebole sono un flop sono un flop perché il suo destro è praticamente inesistente infatti più che altro essendo un ala a destra se voi volete usare questo giocatore per fare dei cross io ve lo sconsiglio infatti il suo destro va bene per fare gli 1-2 va bene per fare dei passaggetti ma comunque se si tratta di crossare o di tirare ecco vi sembrerà di avere un qualsiasi Mario Gomez nelle giornate non in forma che fosse la Fiorentina perdonatemi ma ce l'ho affanto a calcio e vabbè ieri ha segnato comunque insomma diciamo che non mi sta dando troppe soddisfazioni ecco va bene finiamo con un altro diciamo flop ma molto tra virgolette perché anzi diciamo prima il top il top è l'equilibrio l'equilibrio bilancia questa forza fisica non altissima comunque Robben un giocatore per quella statura di circa 1,80 difficile da spostare uno così veloce che anche un buon equilibrio a me piace poi però vedi che costa 7 milioni quindi gli aspetti un giocatore iper mega galattico super decisivo io da Robben ho avuto l'impressione fosse un ottimo giocatore che sapesse fare praticamente tutto però gli mancava qualcosa in tutti i reparti quindi nell'elenco di top e di flop c'è proprio un manca qualcosa perché anche lui come di Maria deve ancora fare uno step per poter arrivare al livello dei big 2 bar big 3 con Ibra quindi velocità, dribbling, calcio e piazzati, passaggio, equilibrio e tiro due stelle vedevole e manca qualcosa manca qualcosa per farla essere il top del top resta comunque Ariane Robin ovvero un ottimo giocatore detto questo beh, bye 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 Grazie a tutti.